Non ti ricordi quel mese d'aprite, quel lungo treno che andava al confine, che trasportavano migliaia degli alpini, su su correte è l'ora di partire. Dopo tre giorni di strada ferrata, ed altri due di lungo cammino, siamo arrivati sul ponte canino, e al cielo sereno ci tocca riposar. Siamo arrivati sul ponte canino, e al cielo sereno ci tocca riposar. Siamo arrivati sul ponte canino, 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 Siamo arrivati sul ponte canino,